Arrivano segnali positivi per il turismo in Italia, tutto esaurito negli alberghi e boom di prenotazioni nelle agriturismi e nelle città d'arte tra Pasqua e 25 aprile, calcola la CNA Turismo, i vacanzieri in Italia saranno ben 15 milioni di cui un milione e mezzo stranieri per un giro d'affari di 5,5 miliardi di euro, la media di pernottamenti sarà di 3 notti, domani invece abertura straordinaria dei musei.